La signora Dalloway, episodio 5. Septimus fu tra i primi a partire volontario. Si imbarcò per la Francia allo scopo di salvare un'Inghilterra composta quasi per intero delle opere di Shakespeare e di una Miss Isabel Paul, la quale, di verde vestita, passeggiava in un giardino pubblico londinese. Intrincea, il mutamento auspicato dal signor Brewer, allorché consigliava il gioco del calcio, si produsse quasi istantaneamente. Septimus sviluppò le sue doti virili, ottenne una promozione, attirò l'attenzione, anzi si conquistò l'affetto del suo ufficiale, certo Evans. I due amici somigliavano a due cani che giochino su un tappeto. Uno vi stratta una pallottola di carta, vi si butta sopra ringhiando, cercando di morderla, e ogni tanto da un morso all'orecchio del compagno più vecchio. Questi se ne sta sdraiato a sonnecchiare, guarda il fuoco di tra gli occhi socchiusi, alza la zampa, si volta e bronto l'abbonario. Erano sempre insieme, dividendo gioie e dolori, pur bisticciando e litigando. Ma quando Evans, Rezia che l'aveva visto una volta sola, lo chiamava un uomo pacifico, un tipo robusto dai capelli rossicci, poco espansivo in compagnia di donne, quando Evans cadde in Italia, giusto prima dell'armistizio, Septimus, lungi dal dimostrare un vero dolore e di riconoscere che quella era la fine di un'amicizia, si congratulò con se stesso per essersi commosso tanto poco, per essere stato così ragionevole. La guerra gli aveva fatto da maestra, sublimandolo. Era passato attraverso tutto, amicizia, guerra mondiale, morte, si era guadagnato una promozione, non aveva ancora trent'anni ed era destinato a sopravvivere. In questo aveva ragione. Le ultime granate lo mancarono, egli le osservò esplodere con indifferenza. La pace lo trovò a Milano, alloggiato presso il proprietario di un alberghetto, una casa con un cortile, vasi da fiori, tavolini all'aperto. Le figlie facevano le modiste e una sera, soprafatto dal terrore di essere diventato insensibile, egli si fidanzò con la più giovane, Lucrezia. Ora che tutto era finito, firmato l'armistizio, seppelliti morti, lo assalivano specie di sera quegli improvvisi accessi di terrore. Era diventato insensibile. Quando apriva la porta della stanza dove le giovinette lavoravano a far cappelli, egli le vedeva, le udiva, pescavano perline colorate con del fil di ferro entro scodelline, foggiavano del tessuto di paglie in diversi modi, c'era un tavolo sparso di piume, pagliuzze, sete, nastri e cesoie battevano sul legno. Ma qualcosa gli mancava. Egli non sentiva più. Eppure, quel tintinnare di forbici, quel chiacchiericcio delle giovani modiste, lo proteggevano, si sentiva al sicuro, aveva trovato un rifugio. Ma non poteva passar lì tutta la notte. E c'erano quei momenti, quei risvegli all'alba. Il letto cadeva e lui cadeva insieme al letto. Ah, quelle cesoie, la luce della lampadina, la forma dei cappelli. Egli chiese la mano di Lucrezia, la minore delle due, la gaia, la frivola, quella che alzando quelle sue manine d'artista diceva tutto è qui dentro. Sete, piume, che cosa non acquistava vita sotto di esse? Vedi, è il cappello che conta, ella soleva dire quando uscivano insieme. E ogni cappello che passava subiva il suo esame, per non dire del mantello e del vestito e del portamento della signora che lo sfoggiava. I vestiti di cattivo gusto, i vestiti troppo ricchi, ella li stigmatizzava senza indignazione, ma piuttosto con gesti impazienti delle mani. Quasi un pittore il quale condagni una contraffazione che non scevra di buone intenzioni, salta agli occhi tanto è evidente. Generoso ma sempre critico, il suo sguardo approvava una piscinina che con uno scampolo s'era rimediata l'abituccio alla moda, o ammirava senza riserve con entusiasmo professionale, la dama francese che scendeva dall'automobile in mantello di cincillà, strascico e perle. Fantastico, mormorava e urtava Septimus col gomito per fargli vedere. Ma a lui tanta bellezza appariva dietro una lastra di vetro. Persino il palato, a Rezia piacevano il gelato, il cioccolato, i dolciumi, non gli dava più consolazioni. Posava la tazza sul marmo del tavolino, guardava la gente che passava. Sembravano felici, gridavano, ridevano, attaccavano lite per un non nulla, ma egli non sentiva più alcun sapore, i suoi sensi diventavano ottusi. Nella saletta da te, fra i tavolini e il brusio dei camerieri, lo assaliva al timor panico, non era più sensibile. Di ragionare era capace, leggeva con facilità Dante, per esempio. Septimus posa quel libro, gli diceva Rezia, chiudendogli dolcemente l'inferno. Sapeva fare l'addizione sul foglietto del conto. Oh, in quanto a questo, il suo cervello funzionava perfettamente. Doveva essere colpa del mondo allora, se egli non sentiva più. Gli inglesi sono così silenziosi, diceva Rezia. Ciò le piaceva, ella diceva. Le incutevano rispetto quegli inglesi e lei moriva dalla voglia di vedere Londra e i cavalli inglesi e quegli abiti confezionati dai sarti e ricordava di aver sentito raccontare meraviglie dei negozi londinesi da una zia che si era sposata e abitava in Soho. Può essere, pensava Septimus guardando l'Inghilterra dal finestrino del treno mentre si lasciavano dietro New Haven, può essere che il mondo in sé non abbia alcun senso. In ufficio lo promossero a un posto di responsabilità considerevole. Erano orgogliosi di lui, era tornato con una croce di guerra. Avete fatto il vostro dovere, ora spetta a noi. Il signor Brewer cominciò un discorsetto, ma non poté finire, tanto l'emozione lo solleticava gradevolmente. I due sposi presero un magnifico appartamento in Tottenham Court Road. Qui egli tornò ad aprire il suo Shakespeare. Quel piacere tutto giovanile che è l'ebrezza letteraria, Antonio e Cleopatra, era completamente appassito. Come abborriva l'umanità? Shakespeare, vestirsi di panni, procreare dei figli, la sordidezza della bocca e del ventre. Quel messaggio, celato entro la bellezza delle parole, si rivelava ora a Septimus. Il segreto segnale che sotto il velame una generazione passa all'altra, a nome disgusto, odio, disperazione. Così è Dante e così Eschilo, tradotto. Seduta al tavolo, Rezia faceva cappelli. Faceva cappelli per le amiche della signora Filmer, faceva cappelli a tutte le ore. A Septimus appariva pallida, misteriosa, simile a un giglio sommerso. Gli inglesi sono così silenziosi, ella diceva, circondando con le sue braccia al collo di Septimus, premendo la gota contro la sua. Per Shakespeare, l'amore tra l'uomo e la donna era una cosa ripugnante. L'atto della copula era, prima ancora della fine, l'ordura. Ma Lucrezia diceva che voleva avere dei bambini. Erano sposati da cinque anni ormai. Andarono insieme alla Torre di Londra, al Museo Vittorio e Alberto. In mezzo alla folla videro il re che si recava ad aprire il Parlamento. E poi c'erano i negozi, negozi di modiste, di vestiti, negozi con vetrine piene di borsette per signora, davanti alle quali Rezia si fermava a bocca aperta. Ma lei voleva un maschietto. Voleva un figlio come Septimus. Ma chi poteva essere come lui? Così dolce, così serio, così intelligente. E non avrebbe potuto leggere anche lei Shakespeare? Era un autore molto difficile, eh, Shakespeare? Chi ha coraggio di mettere figli in un mondo come questo? Non si può perpetuare il dolore, né aumentare la razza di quegli animali lussuriosi, quali non hanno emozioni durante, ma solo capricci e vanità che li trascinano alla deriva. Septimus la guardava armeggiare con forbici e ago, così come, senza osare muovere un dito, si guardava un uccelletto saltellare e svolazzare nell'erba. Poiché la verità, possa ella ignorarla sempre, è che gli uomini non vanno oltre quel tanto di bontà, di fede e di carità che serve loro per piacere del momento. Essi cacciano in branchi che scorazzano per il deserto e urlando scompaiono nelle selvagge solitudini. Abbandonano chi cade. La scorza esteriore non è che una smorfia. Quel brewer in ufficio, per esempio, coi suoi baffetti impomatati, la spilla della cravatta di corallo, la lista di picchè bianco al collo della giacca e le sue blande emozioni, e dentro di sé era freddo e viscido. La guerra gli aveva distrutto i gerani e rovinato i nervi alla cuoca. O Amelia vatte la pesca che alle cinque in punto distribuiva tazze di tè, piccola arpia oscena e losca dalla bocca deforme. E i tomei berti dalle camicie inamidate, trasudanti vizio e a grosse gocce. Non si erano mai accorti che egli li schizzava nel suo tacquino, nudi, intenti alle loro buffonate. In strada i furgoni lo sfioravano rumoreggianti, i manifesti facevano sfoggio di brutalità, uomini restavano presi in trappola nelle miniere, donne erano state arse vive. E una volta, in Tottenham Court Road, si vide sfilare dinanzi a passo ginnico una sciagurata banda di pazzi, i quali venivano messi in mostra per il sollasso della plebaglia che sghignazzava forte. E barcollando ed ondolando la testa e ridacchiando, ostentavano un po' ritrosi ma fieri la loro incurabile magagna. Miracolo se non impazziva anche lui. Mentre prendevano il tè, Rezia gli disse che la figlia della signora Filmer aspettava un bambino. E lei? Era dunque destino che invecchiasse senza figli? Era tanto sola, era tanto infelice. Per la prima volta da che erano sposati, ella pianse. Di lontano Septimus sudiva i suoi singhiozzi, li coglieva distintamente e li paragonava a uno stantuffo in moto. Ma non sentì nulla. Sua moglie piangeva e lui non sentiva nulla. A ognuno di quei profondi, muti, disperati singhiozzi, egli scendeva di un passo nel baratro. Finalmente, con un gesto melodrammatico che gli venne spontaneo, ma chinalmente con la completa coscienza della propria insincerità, egli si lasciò cadere il capo fra le mani. Ora s'era arreso, ora affidava nell'aiuto altrui, altri dovevano correre in suo aiuto. Era la fine. Nulla ebbe il potere di rianimarlo. Rezia lo mise a letto. Mandò a chiamare il medico, il dottor Holmes, medico curante della signora Filmer. Il dottor Holmes lo visitò. Non c'era nulla di grave, dichiarò il dottore. Ah, che sollievo, che persona a modo, che bravo uomo, pensò Rezia. Quando lui si sentiva così, disse il dottor Holmes, andava a uno spettacolo di varietà. Si prendeva un giorno di vacanza con sua moglie, giocava al golf. Proviamo due compresse di bromuro sciolte in un bicchiere d'acqua prima di coricarsi. Queste vecchie case di Blonsbury, diceva il dottor Holmes picchiando con le nocche sulle pareti, hanno spesso dei magnifici pannelli di legno e i proprietari sono tanto sciocchi da coprirli con tappezzerie di carta. Appunto l'altro giorno, visitando un malato Sir Pinko Pallino in Bedford Square, dunque nulla di grave. Non c'era nulla di grave, se non il peccato per cui la natura umana lo aveva accandannato a morte, l'insensibilità. Era rimasto insensibile quando Evans era caduto, e questo era stato il peggio. Ma alle prime ore del mattino, tutti gli altri delitti levavano il capo dai piedi del letto e sbeffeggiando e ghignando, segnavano a dito il corpo che giaceva prostrato con la piena coscienza della propria abbiezione. Egli aveva sposato la sua donna senza amore, le aveva mentito, l'aveva assedotta, aveva offeso Isabel Paul e tanto era bollato e sfigurato dal vizio che le donne vedendolo in strada rabbrividivano. Contro uno scellerato simile la natura umana non può pronunciare altro verdetto che morte. Il dottor Holmes ritornò. Grande e grosso, fresco, bell'uomo, si ripuliva le scarpe dalla polvere, si rimirava allo specchio e con un sol gesto spazzò via tutto, mali di capo, insonnia, terrori, incubi, sintomi nervosi e nulla più, disse. Quando il dottore scopriva che i suoi 80 chili diminuivano anche solo di mezzo chilo, si faceva dare dalla moglie un altro piatto di porridge a colazione. Rezi avrebbe pur dovuto imparare a fare il porridge. Però, continuava il dottore, la salute dipende in gran parte dalla padronanza di sé. Buttatevi a interessi indipendenti dalla vostra vita quotidiana, coltivate qualche piccola mania. Egli aprì Shakespeare, Antonio e Cleopatra, e spinse da parte Shakespeare. Qualche piccola mania, insisteva il dottor Holmes. Forse che lui non doveva la sua ottima salute, e lavorava sodo quanto qualsiasi altro collega a Londra, al fatto di saper passare in qualsiasi momento dai suoi malati ai mobili antichi. E che grazioso pettine, egli si permetteva di ammirarlo, aveva la signora Warren Smith. Quando quel maledetto idiota ritornò, Septimus si rifiutò di vederlo. Davvero non voleva? Disse il dottor Holmes sorridendo con punto. E dovette dare a quella cara donnina che era la signora Smith una spintarella amichevole per poter entrare nella camera del marito. Dunque abbiamo FIFA? Disse Mellifluo sedendosi accanto al suo paziente. Davvero aveva parlato a sua moglie di togliersi la vita? Una ragazzina appena e forestiera, se non sbagliava. Che strana idea voleva darle dei mariti inglesi, dunque. Forse che non si hanno dei doveri verso la propria moglie? E non sarebbe stato meglio far qualcosa invece di starsene a letto? Septimus poteva credergli sulla parola al dottor Holmes che aveva dietro di sé 40 anni di esperienza. Non aveva nulla, proprio nulla, e il dottore sperava che la prossima volta avrebbe trovato Smith fuori dal letto e che non avrebbe più dato dei dispiaceri a quella cara donnina. Era in breve la natura umana che lo perseguitava, l'orrido mostro dal grugno insanguinato. Holmes lo perseguitava. Veniva regolarmente tutti i giorni. Quando avete inciampato una volta, scrisse Septimus sul rovescio di una cartolina postale, la natura umana non ve lo perdona più. Holmes non ve lo perdona più. Non restava che cercare scampo nella fuga, senza farlo sapere a Holmes. In Italia, ovunque, lungi dal dottor Holmes. Ma Rezia non lo capiva. Il dottor Holmes era una così brava persona. Se la prendeva tanto a cuore per Septimus. A sentir lui non desiderava che di aiutarli. Era padre di quattro bambini piccoli e l'aveva invitata a prendere il tè, ella raccontò a Septimus. Dunque era abbandonato. Il mondo intero insorgeva a gridare, ucciditi, ucciditi per amor nostro. Ma perché mai egli doveva uccidersi per amor loro? Il cibo era assaporito, il sole caldo, e in quanto a quella faccenda di uccidersi, come ci si briga? Con un coltello da tavola, malamente, versando fiumi di sangue o aprendo il rubinetto del gas? Egli era troppo debole, a malapena riusciva a sollevare la mano. E poi, ora che era tutto solo, condannato, circondato dall'immensa solitudine dei morituri, gliene veniva un'ebrezza, un isolamento che rasentava il sublime, una libertà ignota agli incatenati. Holmes aveva vinto, naturalmente. Aveva vinto, il bruto dalle rosse narici. Ma Holmes stesso non poteva toccare quell'avanzo d'umanità errante ai confini del mondo, quel proscritto che volgeva lo sguardo dietro di sé alle terre abitate, che come un navigante annegato giaceva sulle spiagge dell'ultima tule. In quel momento, Rezi era uscita a far spese, avvenne la grande rivelazione. Una voce parlò dietro al paravento. Era la voce di Evans. I morti erano con lui. Evans, Evans, gridò Septimus. Il signor Smith parlava da solo, gridò Agnes, la servetta alla signora Filmer in cucina. Evans, Evans aveva detto quando lei gli aveva portato il vassoio. E lei aveva fatto un salto, niente meno, poi si era precipitata giù per le scale. Erezia entrò coi fiori, attraversò la stanza e mise le rose in un vaso che subito il sole colpì. E si mise a ridere e a ballare per la stanza. Aveva dovuto comprare le rose a un pavoretto per la strada, disse Rezia, ma ormai erano già quasi morte, disse, accomodando le rose. Dunque fuori c'era un uomo, Evans probabilmente, e le rose, che Rezia diceva quasi morte, erano state raccolte da lui nei campi della Grecia. La comunione è salute, la comunione è felicità. Comunione, egli borbottava. Che cosa vai dicendo Septimus, domandò Rezia fuori di sé dal terrore che egli parlava da solo. Mandò Agnes a chiamare di corsa al dottor Holmes, suo marito diceva, era impazzito, quasi non l'aveva riconosciuta. Mostro, mostro, urlò Septimus, vedendo l'umana natura entrare nella stanza sotto le spoglie del dottor Holmes. Andiamo, che cosa succede, ribatte il dottore col più amabile dei sorrisi. Dite delle sciocchezze per spaventare la vostra signora? Ora però gli avrebbe dato qualcosa per farlo dormire. E se avevano i mezzi, disse il dottore guardandosi attorno con aria ironica, andassero a Darley Street, se non avevano fiducia in lui, soggiunse, e non appariva affatto benevolo. Era mezzogiorno in punto. Mezzogiorno secondo Big Ben, i cui rintocchi, diffondendosi a ondate verso il nord di Londra, si sposavano a quelli d'altri campanili, in sottile e tereo modo, si confondevano con le nubi e gli sprazzi di fumo e morivano lassù tra i gabbiani. Mezzogiorno suonava mentre Clarissa dispiegava la sua veste verde sul letto e i Warren Smith si incamminavano giù per Harley Street. Avevano appuntamento per mezzogiorno. Deve essere la casa del Sir William Bradshaw, pensò Rezia, quella dove c'è l'automobile grigia davanti alla porta. I plumbe e i circoli si dissolvevano nell'aria. Era proprio l'automobile di Sir William Bradshaw, grigia, bassa, potente, con semplici iniziali intrecciate sullo sportello, quasi che la pompa del blasone fosse incongra per quell'uomo che era il pio benefattore, il sacerdote della scienza. E la carrozzeria, essendo grigia, consone alla sua sobria dolcezza, vi si ammucchiavano dentro pellicce grigie, coperte grigie-argento, per tenere caldo a Lady Bradshaw mentre aspettava. Poiché spesso Sir William doveva fare un centinaio di chilometri e anche più in campagna per visitare i ricchi afflitti da qualche male, i quali potevano permettersi l'alto onorario che giustamente Sir William richiedeva per le sue cure. Lady Bradshaw aspettava un'ora e anche più, le coperte sulle ginocchia, appoggiate ai cuscini, e il suo pensiero si volgeva talvolta al malato, talvolta al vallo d'oro che saliva, saliva ogni minuto mentre ella aspettava. Al vallo d'oro che saliva tra loro e gli espedienti e le traversie di ogni genere, ella le aveva superate coraggiosamente, i loro brutti momenti li avevano avuti, fino a che non si era sentita trasportata su di un calmo oceano ove non alitano che aulenti zeffiri, rispettata, invidiata, ammirata, senza alcun desiderio al mondo, senz'altro rammarico se non quello di ingrassare. Grandi pranzi ogni martedì sera ai colleghi, una fiera di beneficenza da inaugurare ogni tanto, l'omaggio di un'altezza reale, troppo poche le ore ahimè da trascorrere col marito, sempre più preso dal suo lavoro. Un ragazzo che si comportava bene a Eton, peccato non avere anche una figlia. Le occupazioni non le mancavano tuttavia, protezione dell'infanzia, assistenza agli ex epilettici e la fotografia d'arte. Dove c'era una bella chiesa, o una chiesa molto antica, dando una mancia al sagrestano, ella si procurava la chiave e mentre aspettava il marito scattava delle foto che avrebbero fatto invidia a un professionista. Sir William non era più giovane, aveva dietro di sé una vita di lavoro durissimo. Figlio di un bottegaio, si era conquistata la sua posizione grazie alle doti personali. Affezionato alla sua professione, parlava bene e alle cerimonie faceva ottima figura. E tutte queste cose, all'epoca in cui aveva ricevuto il blasone, gli conferivano un occhio grave, stanco, il fiume dei malati scorreva incessante, le responsabilità e i privilegi della professione finivano con l'essere un onere. E quella stanchezza, unita ai capelli grigi, aumentava l'eccezionale signorilità della persona, dandogli fama della massima importanza nei casi di malattie nervose, non solo di folgorante abilità e pressoché infallibile precisione nella diagnosi, ma altresì di simpatia, di tatto, di rara comprensione dell'animo umano. Sin dal primo momento in cui quei due, che si erano fatti annunciare come Warren Smith, avevano posto piede nella stanza, egli vide. Ne fu certo non appena guardò l'uomo. Si trattava di caso estremamente grave. Era un caso di completo esaurimento, completo esaurimento fisico e nervoso, con tutti i sintomi di uno stadio avanzato. Gli bastarono due o tre minuti per accertarsene e intanto scriveva su un cartoncino rosa la risposta alle sue domande, formulate con discreto mormorio. Da quanto tempo era in cura dal dottor Holmes? Da sei settimane. Aveva prescritto un po' di bromuro? Aveva detto che non era nulla di grave? Eh sì, quei praticoni di medicina generale, riflette Sir William. Gli ci voleva metà del suo tempo per riparare i loro svarioni e ce n'erano anche di irreparabili. Avete fatto la parola, avete fatto la guerra e vi siete distinto, vero? Il paziente ripetè la parola guerra con un accento interrogativo. Annetteva un significato a parole di carattere simbolico, sintomo serio che meritava di essere annotato sul cartoncino. La guerra? Domandò il paziente. La guerra europea? Quella piccola barahonda di ragazzini con della polvere da sparo? Se lui si era distinto? Davvero non ricordava. La quella era stata per lui un fallimento. Sì, mio marito si è molto distinto, assicurò Rezi al dottore. Ha anche avuto una promozione. E nel vostro ufficio vi tengono in gran conto, non è vero? Mormorò Sir William, dando un'occhiata alla lettera assai elaborata del signor Brewer. Sicché non dovreste avere fastidi, nessuna preoccupazione finanziaria, niente insomma. Aveva commesso uno spaventoso delitto ed era stato condannato a morte dalla natura umana. Oh, oh, cominciò Septimus. Ho commesso un delitto. Ma se non ha mai torto un capello a nessuno, assicurò Rezi al dottore. Se signor Smith voleva fare il piacere di aspettare, disse Sir William, egli aveva da dire qualcosa alla signora nel salotto accanto. Suo marito era malato seriamente, disse Sir William. Aveva mai minacciato di togliersi la vita? Altro che pian Serezia. Però non faceva sul serio, disse. Certamente no. Era semplicemente una questione di riposo, disse Sir William. Riposo, riposo, riposo. Un lungo riposo a letto. C'era una deliziosa casa di cura in campagna, dove suo marito avrebbe trovato tutta l'assistenza possibile e immaginabile. Lontano da lei, domandò Rezia. Purtroppo sì. Le persone che ci sono più care ci riescono ben poco utili quando siamo malati. Ma Septimus non era mica pazzo, no? Sir William disse che lui non parlava mai di pazzia. La chiamava mancanza di equilibrio. Ma a suo marito non piacevano i medici. Si sarebbe rifiutato di andare in quella casa. Rapido e cortese, Sir William le espose la situazione. Egli aveva minacciato di togliersi la vita. Non c'era alternativa. Era prescritto dalla legge. Lo avrebbe fatto stare a letto in una bellissima casa di campagna. Le infermiere erano ammirevoli. Sir William sarebbe andato a visitarlo una volta alla settimana. E ora, se la signora era ben sicura di non avere altro da domandargli, egli non trattava mai i suoi pazienti in modo sbrigativo, sarebbero tornati da suo marito. No, Rezia non aveva più nulla da domandare. Non a Sir William. Così, ritornarono dal più esaltato individuo dell'umanità. Dal criminale che affrontava i suoi giudici. La vittima esposta sulla montagna. Il profugo. Il navigante annegato. Il poeta dell'ode immortale. Il signore che era passato dalla vita alla morte. A Septimus, Warren Smith, il quale, seduto in una poltrona sotto la vetrata, gli occhi fissi a una fotografia di lady braccia o in abito di corte, mormorava pensieri sulla bellezza. «Ci siamo fatti la nostra chiacchieratina», disse Sir William. «Il dottore dice che tu sei molto malato», disse piangendo Rezia. «Abbiamo già disposto di ricoverarvi in una clinica», disse Sir William. «Una delle cliniche di Holmes», domandò Septimus con una smorfia. Quell'individuo dava a Sir William un'impressione sgradevole. C'era in lui, figlio di un commerciante, un naturale rispetto per le buone maniere e il decoro esteriore, che la sciatteria offendeva. E c'era ancora, radicato assai più in profondità, seppellito in fondo all'animo di un uomo che non aveva mai tempo di leggere, un rancore contro la gente colta, che veniva nel suo studio per fargli capire che i medici, la cui professione sollecita costantemente tutte le più elevate facoltà umane, non sono uomini istruiti. «Una delle mie cliniche, signor Warren Smith», disse egli, «dove vi insegneremo che cos'è il riposo». C'era una cosa ancora. Sir William era sicurissimo che quando il signor Warren Smith stava bene, era l'ultimo uomo al mondo che si sognasse di spaventare sua moglie. Eppure, aveva parlato di un gesto insano. «Abbiamo tutti i nostri momenti di depressione», concluse il dottore. «Una volta che siete caduti, andava ripetendosi Septimus, la nottura umana vi piomba addosso». Holmes e Brodshaw vi si gettano addosso. «Essi si aggirano nel deserto. Sono capaci di farvi assaggiare il cavalletto e la vite per i pollici. La natura umana è spietata». «Ha avuto qualche accesso?», domandava Sir William, la matita sul cartoncino rosa. Septimus replicò che questo era affar suo. «Nessuno vive per sé soltanto», disse Sir William, gettando un'occhiata a sua moglie in abito di corte. «E avete davanti a voi una carriera brillante». C'era là sul tavolo la lettera del signor Brewer. «Una carriera eccezionalmente brillante». «E se avesse confessato? Se avesse trasmesso il suo messaggio? Lo avrebbero lasciato in pace allora gli Holmes e i Brodshaw?» «Io...» «Io...» cominciò balbettando. «Ma qual era il suo delitto?» «Non riusciva a ricordare». «Sì», lo incoraggiò Sir William, ma il tempo passava. «L'amore, gli alberi, il male non esiste. Come diceva il suo messaggio, non ricordava più». «Io...» «Io...» balbettava, Septimus. «Cercate di pensare il meno possibile a voi», disse con gentilezza Sir William. Veramente non lo si poteva lasciare in libertà. E ora desiderava sapere altro da lui? Sottovoce Sir William disse a Rezia che si sarebbe occupato lui di tutte le modalità e le avrebbe fatto sapere qualcosa la sera stessa tra le cinque e le sei. Mai in tutta la vita Rezia aveva sofferto una tortura simile. Aveva chiesto aiuto ed era stata respinta. Egli era mancato l'oro in pieno. No, Sir William Bradshaw non era un bravo uomo. Soltanto a mantenere una macchina simile doveva spendere fior di quattrini, osservò Septimus quando furono in strada. Ella gli si attaccò al braccio. Erano stati abbandonati. Ma che cosa voleva di più? Ai suoi malati egli concedeva tre quarti d'ora. E se in quella scienza impegnativa che è alle prese con qualcosa di cui alla fin fine non sappiamo nulla affatto, il sistema nervoso, il cervello umano, un medico perde il proprio equilibrio, come medico fallisce. Non dobbiamo tenerci cara la salute. Noi dobbiamo tenerci cara la salute. E la salute significa equilibrio. Cosicché quando un tale entra nel vostro studio e vi annuncia che è Cristo, illusione comune a molti, e ha un messaggio come quasi tutti hanno e minaccia come fanno i più di togliersi la vita, voi invocate l'equilibrio e prescrivete il riposo in letto, riposo in un ambiente di solitudine, riposo nel silenzio, riposo senza amici, senza libri, senza messaggi, sei mesi di riposo sino a che uno che all'entrare pesava 65 kg ne peserà 85 al momento di uscire. Equilibrio. Quell'equilibrio che era la divinità di Sir William. Egli aveva imparato a venerarlo visitando gli ospedali, pescando il salmone, generando un figlio unico in Harley Street assieme a Lady Bradshaw, la quale a sua volta pescava il salmone e scattava anche fotografie che non avevano nulla da invidiare a quella dei professionisti. Venerando l'equilibrio, Sir William prosperava, non solo, ma faceva prosperare l'Inghilterra, internando i suoi pazzi, prescrivendo anticoncessionali, castigando la disperazione, rendendo impossibile agli inetti di diffondere la loro idea sino a che anch'essi non arrivavano a condividere il suo senso dell'equilibrio. Suo se si trattava di uomini, di Lady Bradshaw se erano donne. Ella ricamava, lavorava a maglia, passava quattro sere su sette in casa in compagnia del figlio. Quindi egli si guadagnava non solo il rispetto dei colleghi, il timore dei dipendenti, ma anche la più viva gratitudine delle famiglie e gli amici dei suoi pazienti, riuscendo a ottenere che quei profetici Cristi e Cristesse, che preconizzavano alla fine del mondo l'avvento di Dio, facessero la cura del latte a letto secondo le prescrizioni di Sir William. Sir William, coi suoi trent'anni di esperienza di quel genere di malattie, col suo infallibile intuito, questa è follia, questa è ragione, col suo equilibrio. Ma l'equilibrio ha una sorella, meno sorridente, meno formidabile, una dea che anche ai nostri giorni ha il suo da fare. Sulle torride sabbie dell'India, tra le fangose paludi africane, nei bassi fondi londinesi, ovunque in breve, il clima o il demonio tenta l'uomo a staccarsi dalla vera fede, che sarebbe quella della dea. Ha il suo da fare a rovesciare altari, a infrangere idoli, per ristabilire in loro vece la propria austera effigie. Conversione è il suo nome. Ella si pasce della volontà dei deboli, le piace imporsi, impressionare, va pazza per il proprio sembiante stampato sul volto della plebe. La troverete ad Hyde Park Corner, a predicare su un mastello capovolto. Ammantata di bianco, sotto le spoglie dell'amor fraterno, la vedrete camminare con punta per le fabbriche nei parlamenti. Offre aiuto, ma anela al potere. Brutalmente scaccia alla sua via i dissidenti, gli scontenti, elargisce la sua benedizione a coloro i quali, levando in alto lo sguardo sottomessi, ricevono dagli occhi suoi la luce dei propri. Questa signora, Rezia Warren Smith l'aveva indovinato, aveva preso dimora nel cuore di Sir William, anche se celata, come sua abitudine, sotto una qualche plausibile spoglia, sotto qualche nome venerando. Amore, dovere, altruismo. E lui, come lavorava, come sudava per raccogliere dei fondi, per propagare riforme, per promuovere istituzioni. Ma la conversione, questa dea sofisticata, sofistica, preferisce il sangue ai mattoni e la volontà umana è per lei un cibo prelivato. Prendiamo per esempio Lady Bradshaw. 15 anni avanti, ella si era arresa. Non c'era stato nulla di clamoroso, niente scene, niente chiasso, null'altro che il lento sommergersi, quasi di una barca che fa acqua entro la volontà del marito. Tanto era dolce il suo sorriso, quanto rapida fu la sua sottomissione. Ai pranzi in Harley Street, otto o nove portate, da dieci a quindici invitati, scelti fra i colleghi del dottore, imperava una calma cortesia. Durante la serata, poi, col trascorrere delle ore, un lievissimo tedio o piuttosto disagio, un tic nervoso, un imbarazzo, un incespicare confuso, rivelavano, cosa dolorosa quanto mai a credersi, che la povera signora mentiva. In altri tempi, ormai lontani, quando era libera, ella era andata alla pesca del salmone. Ora, pronta a soddisfare la sete di potere che accendeva di untuosa luce gli occhi del marito. Si ragomitolava tutta, si faceva piccina, si spogliava, quasi un albero che si potasse del superfluo, si ritraeva e scompariva. Tanto che nessuno avrebbe saputo dire che cosa rendesse spiacevole la serata e gravasse come piombo sulle teste. Poteva benessere la conversazione professionale, come la stanchezza di un grande dottore la cui vita, diceva Lady Bradshaw, non appartiene a lui ma ai suoi malati. Fatto sta che, piacevole la serata, non si poteva dire, e con lo scoccare delle dieci, gli invitati aspirarono già a piene nari l'aria di Harley Street. Un sollievo che purtroppo era negato ai pazienti di Sir William. Là, in quella sala grigia dalle pareti ornate di quadri, dai costosi mobili sotto il lucernaio di vetro smerigliato, essi venivano alla resa dei conti. Ranicchiato in una poltrona, assistevano a un curioso esercizio ginnico che il dottore compiva per il loro bene, lanciando le braccia in avanti e riportandole bruscamente ai fianchi, onde provare, nel caso il malato si mostrasse ostinato, che Sir William era padrone delle proprie azioni e il malato no. A questo punto alcuni deboli si accasciavano e, singhiozzando, si davano per vinti. Altri, ispirati da Dio sa quale in testiva follia, davano a Sir William dello sciagurato e del ciarlatano o, in pietà ancora maggiore, dubitavano della vita stessa. Perché vivere? domandavano. La vita è buona, replicava Sir William. Vero è che Lady Bradshaw troneggiava in piume di struzzo sopra il caminetto e quanto al suo reddito ammontava grossomodo a 12.000 sterline l'anno. Ma verso di noi, protestavano quegli altri, la vita non è stata così generosa. Giusto, ammetteva Sir William, però essi mancavano di equilibrio. E poi, se alla fin fine Dio non esiste? Sir William scrollava le spalle. In breve, questa faccenda dell'essere o non essere non è forse strettamente personale? Ahi, qui casca l'asino. Sir William aveva nel Surrey un amico presso il quale si insegnava ciò che egli lo riconosceva francamente. È un'arte difficile, l'equilibrio. C'erano poi gli affetti familiari, l'onore, il coraggio e una carriera brillante. Tutti argomenti che trovavano in Sir William un campione baldanzoso. Ove questi egli fossero venuti meno, restavano sempre la polizia e il bene della società, che, faceva osservare freddamente laggiù nel Surrey, avrebbero fatto sì che quelle ubbie antisociali, generate più che altro da sangue viziato, venissero debitamente rintuzzate. E allora balzava fuori dal suo nascondiglio e saliva sul trono quella divinità che si bee a spazzar via ogni opposizione e a imprimere indelebilmente la propria immagine nei sacrari altrui. Nudi, inermi, privi d'amici, esausti, i disgraziati ricevevano l'impronta della volontà di Sir William. Rapace piombava su di loro e li faceva imprigionare. Era quella risoluzione mista a filantropia che rendeva Sir William particolarmente caro alle famiglie delle sue vittime. Maresia Warren Smith piangeva giù per Harley Street, dicendo che quell'uomo non le era piaciuto. Tagliuzzando o sminuzzando, dividendo e suddividendo, gli orologi di Harley Street rosicchiavano quella giornata di giugno, consigliando l'umiltà, esaltando l'autorità e, in coro, proclamavano gli incomparabili vantaggi dell'equilibrio e ridussero il cumulo del tempo, tanto che un orologio messo lì per far da richiamo sopra un negozio in Oxford Street, gioviale e fraterno annunciò quasi che per la ditta Rigby & Laundes fosse un piacere fornire l'informazione gratis che era l'una e mezza. Chi alzava gli occhi vedeva che ogni lettera dei nomi corrispondeva a un numero del quadrante. Subcoscientemente il passante era grato alla ditta Rigby & Laundes di indicargli un'ora controllata dall'osservatorio di Greenwich e quella gratitudine, così ruminava Hugh Whitebredt che ozziando si era fermato davanti alla vetrina del negozio, naturalmente aveva preso in un secondo tempo la forma di un acquisto di calzini o di scarpe da Rigby & Laundes. Così egli ruminava. Era la sua abitudine. Non era un uomo che andasse al fondo delle cose. Le sfiorava alle superfici, le lingue morte, le lingue viventi, la società di Costantinopoli, di Parigi, di Roma, l'equitazione, la caccia, il tennis, tutto aveva provato. Le male lingue asserivano che ora, in calze di seta e calzoni al ginocchio, egli montava la guardia a Buckingham Palace. A che cosa? Nessuno sapeva, ma lo faceva con grande maestria. Da 55 anni bazzicava l'alta società inglese, aveva conosciuto dei primi ministri, passava per un uomo di affetti profondi e se era vero che non aveva preso parte a nessuno dei grandi movimenti dell'epoca né ricoperto cariche importanti, bisognava pur fargli credito di alcune modeste riforme. Una era il miglioramento dei rifugi pubblici, un'altra la protezione dei gufi nel Norfolk. E le donne di servizio avevano di che essergli grate e il nome di Hugh Whitebread, in calce alle lettere che sul Times chiedevano fondi, invitavano il pubblico a tutelare, a distruggere le immondizie, a eliminare il fumo delle fabbriche e a combattere l'immoralità. Era un nome che incuteva rispetto.